Sbloccati i fondi per far tornare al lavoro i 24.000 forestali che avevano già minacciato di riprendere manifestazioni e blocchi. Dall'ufficio di gabinetto dell'assessore all'economia una nota ha annunciato che si è dato il via libera all'iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie a copertura dell'intervento di rimodulazione dei fondi deliberati dal Cipe destinate ai progetti contro il dissesto idrogeologica a difesa del territorio. Un'ulteriore conferma arrivata anche dall'assessore all'agricoltura Cracolici che ha sottolineato come si tratti del 60% dei fondi da destinare alla categoria. Una vicenda quella delle risorse legate ai forestali che si intreccia col bilancio regionale. Il documento ancora non c'è nonostante l'Aggiunta avrebbe dovuto approvarlo entro il 30 settembre. Quello che sicura l'esistenza di un buco da 1,4 miliardi di euro privo fino a oggi di ogni copertura finanziaria. Il presidente Crocetta è più volte volato a Roma per tentare di ricucire i rapporti con il governo nazionale ed ottenere le risorse necessarie a coprire il deficit finanziario. E da Roma è invece arrivato l'ultimatum del PD. Prima Crocetta definisca l'Aggiunta, poi parleremo di aiuti. La nomina dell'assessore alla funzione pubblica dell'Antieri è uno dei tanti problemi che deve affrontare il governatore. Ci aggiungono infatti una mozione di sfiducia avanzata dal Movimento 5 Stelle e le fai di interno al suo partito. Dopo scontri e riunioni di fuoco durate 15 ore sulla scelta del nuovo capogruppo Demma Lars è arrivato il ballottaggio tra Alice Anselmo e Luca Sanmartino. Nell'attesa un dato è certo, il ballottaggio dovrà concludersi entro otto giorni e lo stesso presidente Lars Ardizzone ha invitato tutti a convergere il prima possibile su un nome.